Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Oggi vi ho portato la guida al platino di The Language of Love, una visual novel di Rata Laika Games disponibile sul PlayStation Store a 9 euro e 99 centesimi. Prima di iniziare vi invito come sempre a lasciare un like, un commento per farmi sapere la vostra opinione sul gioco e condividete anche questo video per supportare il nostro canale. Se vi interessano altre guide al platino ne trovate molte altre sul nostro canale sia nella home page e anche nel link che vi lascio nella descrizione qui sotto. Iniziamo subito con una nuova partita, andiamo prima però sulle configurazioni. Per platinare questo titolo il più velocemente possibile, mettiamo al massimo la velocità del testo, auto forward speed anche questo al massimo, il volume e gli effetti valutate voi se aumentarli o no, poi le transizioni le disattivo, skip mode tutti i testi e il linguaggio va benissimo quello che preferite. Quindi iniziamo questa nuova partita. Per platinare questo gioco il più velocemente possibile possiamo premere direttamente R1 e tutti i dialoghi andranno velocissimi quindi la storia proseguirà praticamente in automatico. Si tratta quindi di un gioco velocissimo da platinare, sicuramente una delle visual novel presenti sullo store tra le più facili e veloci da completare, non ci sono delle scelte particolari da effettuare lungo la storia, diciamo la trama va avanti senza porci dei bivi, quindi semplicemente con la pressione di R1 la trama proseguirà da sola e arriveremo alla fine del gioco, pian piano sbloccheremo anche tutti quanti i trofei. Quindi ragazzi io mi fermo qui con questo commentary, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!